aiuto no gualti sto mangiando la crostata no gualti ha perso il nome gualti no il nome no gualti ci sono lui che assiste che ho questo spider gunner spider gunner cipio le pizze da the rock con la sua gelatina per i capelli lui si attacca dappertutto e gunner gunner dell'ordine immaginario io pensavo è molto carico e finiva il video c'è un lupo cattivo che sta arrivando fa la bizzita veloce aspetta la picconata con gunner sto arrivando sono pazzo se ben ritrovati in questo nuovissimo video oggi tutti faremo parte dell'ordine immaginario oggi utilizzeremo la skin esclusiva solo per noi e ci ha mandato a epic non è vero utilizzeremo come al solito mistica la skin gunner che potrebbe arrivare in futuro come crew oppure chissà cosa ma non solo gunner utilizzeremo anche i semplici oi ma non solo anche io e lì ovvero la pattuglia oi ma dato che in questi ultimi giorni mistica ha un piccolo problema ovvero che non riesce a memorizzare più le skin una volta eliminate abbiamo trovato un piccolo trucchetto per far sì che funzioni e adesso ve lo mostriamo ma prima inserisci il codice pazzox all'interno dello shop di fortnite se vuoi supportare questo creatore il tuo supporto garantirà tantissimi nuovi video e tantissime nuove storie ammazzo questa guardia per farvi vedere che mistica purtroppo non riesce più a ricordare le skin musica degli oi vedete dimenticherà la skin quindi come risolvere questo problema semplicemente mistica non riesce a ricordare la prima skin ma la miseria ok e adesso ragazzi dovrebbe darmi sempre gunner senza problemi ma tu non sai dell'ordine immaginato oddio guardi sembra che c'è della nerf quello che la mimetica ecco qua è scaduto il signor gunner e in teoria adesso dovrebbe ritrasformarmi senza alcun problema questo si diventa e adesso ragazzi ovviamente che cosa dobbiamo a parte usare questo la giornale basta simone che cosa dobbiamo fare ah è morto finalmente jones mi porti i frittelli no mo sono io il capo andiamo in partita ragazzi sei pronto simone dimmi che sei pronto ai gunner vado a rifugiarmi buoni buoni ok ammazzato buona sta crostata che mi ha fatto la mamma ma io sono un boss non è il mio problema qualti aiuto no qualti sto mangiando la crostata ma io sono il bollo non sto facendo niente no mi sei scaricato adesso mistica mistica veloce 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 ok sto rimanendo dietro la trivella genna bravo bravo non mi sta sparando quello non mi sto sparando no la mia amata zona cavernosa no un grazie grazie mille tu si che contribuisce all'ordine immaginario devo osservarla sempre anche mentre stava bevendo e non solo grazie entra in bagno adesso no signore deve svuotare la cica no aspetta un vero signore dell'ordine sarà la zipline così mangiando la crostata conquistate come prendete mille crostate colpisco quell'uomo 19 perché lascia di pace ganna fagli male a bravo non posso uccidere non posso ucciderla bravo qualti bravo qualti ordine soldati soldati io c'ho la pizza non c'ho la e c'è un uomo per lei sopra l'ho ferito uno l'ho ferito l'ho ferito l'ho ferito nelle storie io devi far dire a qualcuno brutto mangiacrostate ah pure tu allora favo l'ordine come poliziotti con la ciambella sono le crostatine dell'ordine immaginario mo ci arriva c'è sta il loro logo sulla plastica ci arriva una bomba alex ho visto un lanciacrate per terra in giro eccolo sono cunner gli ho sparato fagli male gli ho sparato non c'ho vita fagli male bravissimo eccetto non posso fare niente lo devo solo guardare no no fatti fatti tuoi stava tutto zio ma è slon bravissimo posso prendere intanto prendi 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 no non crashare qualti no qualti qualti ho la pizza qualti ho portato la pizza e sono anche canna la pizza non sistema il modem ragazzi potere napoletano qualti no guarda hai visto la pizza hai visto che la pizza funziona l'odore mangia qualti ragazzi la pizza sistema i modem fidatevi no qualti qualti più la pizza qualti no di nuovo no non volevo mangiarla qualti la pizza senti l'odore senti l'odore no faccio pure questo qualti dai va tutto bene è 1 e 2 1 e 2 muoviti come il tuo capo ti ordino di non sparire no qualti ha perso il nome qualti no il nome no qualti vabbè mangiamo la pizza sua l'ho preso un 86 vai alex brevissimo spider gunner spider gunner cp o le pizze da the rock con la sua gelatina per i capelli lui si attacca dappertutto e gunner gunner dell'ordine immaginario sono malissimo ordine immaginario 2022 copyright inc leggere attentamente il foglio illustrativo per la gelatina ragazzi spider gunner l'ho colpito simone non c'ho vita non c'ho vita l'ho colpito c'è un altro qua da me alex l'ho colpito non c'ho vita aiuto gunner time 65 a 1 meno male che me l'ha acceso lui che assist che ho questo ragazzi mi ha guardato uno da vicino mentre mi trasformavo mi sono cagato ma che si vince con gunner manca l'ultimo aspetta la picconata con gunner sto arrivando aspetta 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 alex e senza scudi e senza scudi no vabbè no l'ho picconato 20 io ho tutto 20 aspetta aspetta assalto l'ho picconato aspetta ho visto alex che mi raccomando aspetta io sono una brava persona e ha vinto anche lui ha vinto anche lui bravo ho vinto un amicizzo oh ho fatto 7 kill in teoria perché 7 assist poi un'animazione adesso gg e andiamo a vedere qua dai perché sono sicuro che il gioco ci vorrà bene questa volta e ci li fa trovare qua l'ho trovato ma guardate sono qui gennaro sta arrivando simone sono degli ospiti per te uccidere qui compagno elevati ok arrivare 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 ah no dove fare male dove fare male sono uno di loro ma c'è bucce piar tornato gennaro vai no mi fai gennaro non funziona così ma non ci prende visto ecco ce l'hanno manco tornato oddio pensavo è molto carico la cosa e si nivela il video c'è un lupo cattivo che sta arrivando fa la benzina veloce posto sento davanti a fuori si 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 sta avvicinando ragazzi si 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 io sto pattugliando di qua per per finta va bene eh ce l'ha con voi 90 è già sto a sinistra ho visto visto servizio gratuito però mi rari vieni dentro misi graziato posso ordinare delle patatine prima visto la macchina vedo una pistola avete un cecchino che io do assistenza che genna fai col cecchino salve con questo mi trovi intervento fatto cascare uno colpito possiamo aiutarla è morto come l'ho ucciso con un colpo è caduto dalle ragnatele ma è un cretino e adesso chi sono no vabbè lo prendo in giro vedo 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 vabbè dovevo 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 chi sono fai vedere chi sono attenzione che dire pazzo di spero che questo video di tre vittorie abbiamo fatto il vittorione io caccandomi dalla paura con ganna soprattutto è stato bellissimo i materiali li ho protetto genna rai visto che dire noi come al solito ci vediamo con dolcissimo e carnissimo hehehe Grazie a tutti.